La Cross è un gigante anche in questo, perché lui ha messo immediatamente la bambina molto a suo agio e ha creato una partnership, un solarizio, un'alchimia, lui e lei, che è fondamentale. Perché lui, che è un autore veramente di un calibro che è dato di sopra al direttore delle mie altissime aspettative, è uno che sa che il tuo partner è fondamentale per la tua prestazione. Gli etterini di oggi sono quelli che fa il piccolo ricordo, perché compagno di battute, ma quelli più grossi sono quelli che portano avanti il partner, sono quelli che giocano in squadra. I bambini come lei vengono posseduti dai personaggi, per cui non c'è molto lavoro. Cioè, quando i conti di bambini come Kylie Rogers o Jaden Smith, dell'altro mio film La Cerca, questi bambini sono al di sopra della norma e non sono neanche considerabili come attori e basta. Cioè, loro vengono vissuti dai personaggi, abitati dai personaggi e diventano qualcos'altro che sta fuori controllo in qualche modo. Noi quando soffrono, soffrono veramente, il simbolo no? Quindi io faccio molto lavoro in questi casi. Dovrei consolare, no? Esatto. Sarei contati alla realtà, sono una volta riusciti di… Eh beh, è successo perché abbiamo dovuto calmare la bambina in una scena, praticamente, perché era un attacchio di panico, letteralmente. era veramente questo che mi ha fatto. Ho avuto molto la mano di due film e… E invece non c'ho stato spesso. Eh, se la piange, poi non smetteva più. E la bellezza e anche la felicità di lavorare nei bambini. Molti piaci. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. Perché il tema… Mi hai detto che hai visto che questo film ha molta risonanza nell'anno delle persone. Come si dice sempre che gli artisti vedono la realtà, una lettura della realtà particolare. Perché il tema padre e figli è così attuale? Ah, ma perché il settuale non lo posso sapere. Secondo me… Perché è così sentito? Spero che sia sentito, mi sembra che lo sia. Ma perché secondo me è stato poco trantato ed è uno dei nodi che costruiscono la società degli uomini femminilitarmente. Cioè, le donne, perché hanno un padre tutta la vita. Che sia stato gestionale o sia stato assente, comunque sono inseguite dalla libertà del padre. O perché non trovano un uomo altrettanto eccezionale o perché vivono la nostalgia e l'assenza che non potrebbero mai riempire. Grazie, grazie. Grazie.